Allora andiamo nel campionato di eccellenza, abbiamo sentito Franco Viola e Castro Villari, torniamo al campionato di eccellenza, parlavamo oggi di questa Luzzese che vince in casa dell'Acri anche in dieci uomini e sentiamo Angelo Ferraro, il parere insomma di uno dei massimi esponenti dell'Acri se non il massimo esponente. Buonasera Ferraro. Buonasera a te. Abbiamo detto che è una cooperativa, insomma che siete in molti, ho corretto un po' il tiro, se no gli altri... La cooperativa della salvezza. Allora Ferraro, se ricordi noi siamo quella della salvezza. È vero che dobbiamo rivalutare questa Luzzese o dobbiamo rivalutare quest'Acri? Fateci capire. Beh, allora certamente va rivalutata l'Acri perché la Luzzese oggi ha fatto una rischietta partita, ha voluto vincere, hanno giocato 11 per 30 minuti anche in dieci, quindi hanno lottato su ogni pallone e sono riusciti a vincere la partita. L'Acri oggi non c'era, completamente assente. Abbiamo sbagliato tutto, anzi, non lo so se c'erano in campo i giocatori dell'Acri oggi. Sì, ha pesato anche l'impegno di Coppa. Ma è un modulo di gioco, secondo me è pure errato, sbagliato quello che ha messo oggi in campo, almeno nel primo tempo, il mister. Poi nella ripresa ha cercato di fare qualche cosa di diverso, ma ormai l'Africata l'ha fatta. Il nervosismo li ha presi, qualche buona occasione sbagliata per la voglia di fare il gol, di cercare di pareggiare, ma niente di più. Oggi non mi è piaciuto. È tutto l'inverso di quello che abbiamo visto contro l'Isola, veramente. Con l'Isola abbiamo perso e ho detto che non meritavamo. Oggi abbiamo perso e alla fine devo dire che forse meritavamo, abbiamo meritato di perdere. Quindi di merito dell'Acri e non di questa Luzzese? Perché questa Luzzese mi pare di capire che... No, no, no. Guarda, la Luzzese ha giocato per ben 45 minuti, ha giocato benissimo, non bene, benissimo. Ha chiuso ogni varco agli uomini di Franco Giugno e non ha dato la possibilità all'Acri di entrare nella propria area. Questo è fatto nel primo tempo. Nel secondo tempo poi niente da fare. L'Acri ha trentato il tutto per tutto, si è spinguto completamente in attacco. Loro cercavano di arginare quelle che erano le volate a Crenzi, che erano poi frontalmente. Le ricrossa a palombella con un portiere di 1,99 o quasi due metri. Siamo caduti veramente nel baratro, almeno come gioco. E' chiaro, insomma, non le è piaciuta la sua squadra, principalmente oggi. No, proprio per me. Vincenzi. Sì, buonasera. Sembra all'inizio del campionato l'anno scorso, guarda. All'inizio avete difficoltà. Guarda, l'anno scorso, quello che dicevo poco fa ad alcuni tifosi, l'anno scorso è vero, si è persa la partita con la scalea, però almeno si vedeva il gioco. Oggi abbiamo perso, ma non ho visto niente. Cioè, non ho visto, come dire, speranza, ecco. Mentre lì, dico, la speranza c'è, perché dobbiamo cercare di, come dire, di trovare la pecca che era il portiere nella squadra dell'Acri. Di fatto abbiamo preso gol da 40 metri. Oggi, no, non so dove andare a parare per poter cambiare qualche cosa. Quindi, è solo un aspetto tecnico, io prima dicevo anche la gara di Coppa, magari un po' di stanchezza. No, 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 perché sei elementi in Coppa ha fatto giocare il mister del turnover, ha fatto giocare sei giovani, quindi niente stanchezza. Cioè, oggi, ripeto, non c'era la squadra dell'Acri. Sì, quindi c'era... Ha lasciato fare tutto, ha lasciato fare tutto allo stesso. E quelli, giustamente, hanno trovato l'occasione buona per segnare il gol. Poi hanno avuto un'altra palla-gol che, per mera fortuna, è sbagliata il palo. E quindi ci siamo salvati. Se no, potrebbero acchiudere pure già la guardia dal primo tempo la partita. C'è da rivedere qualcosa, quindi, anche in vista della prossima gara che vi vedrà impegnati in casa del Gallico Catone, che tra l'altro ieri ha perso nell'anticipo. È una partita difficile, anche questa. Quindi, può darsi che magari le partite difficili poi alla fine si risolvano facili. Sì, è anche un momento delicato, no? Perché si rischia anche di rimanere là sotto, tra virgolette, anche se siamo all'inizio. Anche se siamo all'inizio, però bisogna cercare di guadagnare terreno sulle bacche strade. Sennò non si va avanti. Visto anche il tipo di campionato che, insomma, in molti prevediamo in questa stagione. È un campionato difficile, un campionato lungo, con squadre tutte agguerrite. Non è che ci siano le squadrette in Matarazzo di l'anno scorso, con due squadre che hanno già destinato alla retrocessione. Quindi, sarà dura, sarà dura. Bene, grazie Ferrato. Bene. Certo, in bocca al lupo e buon lavoro. Grazie a voi, buona serata. Buona serata.